ciao sono francesca e mi sono un'infermiera ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale con la lingua inglese perché da una parte ero desiderosa di impararlo e parlarlo fluentemente ma dall'altro mi scoraggiavo perché dovevo iniziare sempre da capo monica in questo mi ha aiutato tantissimo perché mi ha dato un metodo ma allo stesso tempo ha reso tutto molto leggero e divertente io consiglio il corso impara l'inglese con monica perché a mio avviso monica è una professionista e allo stesso tempo un vulcano di idee a progetti sempre nuovi molto coinvolgenti e la cosa particolare è che tu non sei uno studente tra tanti provano e vedrai